pongo una prima domanda che diversi si chiedono e ci chiedono intorno al 5g ma scusa adesso c'era da così tanti anni la telefonia mobile le antenne e i cellulari con 2 3 4 5 g arriva adesso perché tutto sto baradano perché tutto questo trambusto cosa c'è che cambia di così importante che ad un tratto la popolazione si oppone a quasi ogni antenna come è possibile le risposte sono diverse io ne cito tre apre le porte come ha detto roberto all'internet delle cose lo approfondiamo ancora questo cos'è l'internet delle cose e questo insieme porta con sé la possibilità di immenso controllo di diffusione di dati diciamo raccolta di dati e inoltre si aggiunge alle frequenze esistenti cioè le frequenze che sono già in uso ora rimangono e si aggiungono quelle del 5g quindi ci sono ancora più frequenze dopo vedremo perché questo è un problema inoltre già detto da roberto offre la copertura totale anche con satelliti i primi grossi problemi inizio parlando di un un esperto di radiazioni lui era vediamo se ce l'ho con me è stato per tanti anni un esperto per la royal navy cioè l'esercito britannico adesso lo dovrei frugare fuori comunque barry trauer dice ogni frequenza ai suoi effetti specifici sugli esseri viventi e lui ha studiato ha lavorato con le microonde nell'esercito con le armi a microonde e ha detto con con le con 700 diverse gamme di frequenze possiamo provocare precisamente specificamente legato a una frequenza determinati disturbi malattie problemi e quindi più frequenze combiniamo dice in questo volantino mi sa che è anche esposto sul tavolo più frequenze combiniamo più sono ignoti gli effetti biologici nel senso questa frequenza porta questo disturbo quella frequenza porta quel disturbo ma insieme cosa fanno queste due frequenze portano semplicemente quello e quel disturbo o altro oggi abbiamo una marea di frequenze che si sovrappongono oltre a quelle della telefonia mobile grazie roberto è molto interessante si trova anche in internet se cercate barry trauer vedete il video penso che c'è in inglese in tedesco in cui dice queste cose è molto interessante e preoccupante l'elettrosensibilità qualcuno dirà beh io non sono elettrosensibile in svizzera abbiamo non ricordo esattamente le percentuali le dette prima da 5 a 10 per cento certi stimano addirittura al 20 per cento di persone elettrosensibili fra cui molti che lo sono e non lo sanno molti hanno sintomi e non sanno perché non sanno la causa o questa cosa nessun'idea no da dove viene e questa varia da persona persona nel senso una persona magari sviluppa prima dei sintomi o è prima sensibile a dipendenza della diciamo siamo tutti un po diversi no l'esposizione in interrotta favorisce l'elettrosensibilità ovvero elettrosensibili si diventa una persona sana non elettrosensibile esposta estremamente o esageratamente diciamo alle radiazioni sviluppa l'elettrosensibilità è una malattia che si può sviluppare che si può per così dire prendere e ovviamente è un problema se con il 5g arriva la copertura totale un elettrosensibile o addirittura iper elettrosensibile un iper elettrosensibile non solo ha dei disturbi ha dei problemi causati dalle onde elettromagnetiche ma non li sopporta più cioè non ci può stare deve sottrarsi ai campi elettromagnetici come fai a sottrarti c'è ovunque vai nel bunker ora puoi andare nella foresta magari da qualche parte e sottrarti se arriva dai satelliti se le strade sono tutte tappezzate dove vai non c'è più uno spazio questo è un veramente un grosso problema ne vedremo ancora dopo da più vicino e ora alcuni si chiederanno ma è possibile che in uno stato come la svizzera sia così diffusa una tecnologia così pericolosa sta in piedi la svizzera diciamo vai a un paio di chilometri orari oltre 50 e sac multa è possibile che ci sia una tecnologia così pericolosa e che nessuno la fermi che lo stato non intervenga ci si può stupire dire no non è non è veramente sicura qualcuno dirà sarà uno scandalo sarebbe uno scandalo è interessante che i responsabili che cosa dicono responsabili dicono non so qualcuno ha già sentito cosa cosa che dicono come difesa se se vengono accusati è pericoloso fa male qual è la risposta che dà per esempio il vicepresidente dell'ufa dell'ufficio per l'ambiente è nelle norme è tutto tutto rispetto alle leggi le leggi permettono quello che stiamo facendo non c'è da preoccuparsi e questo è un po un uno scudo perché diciamo è come dire fare il cecchino serial killer viene legalizzato e quindi adesso lo posso fare quindi non c'è problema è legale il problema c'è anche se un crimine viene legalizzato approfondiamo un pochettino il tema di questa furbizia smart che hanno fatto loro dicono tutto a posto nessuno morirà di caldo lo dico io in queste parole perché le norme ci proteggono dal surriscaldamento cioè se io telefono c'è una norma che mi protegge dal fatto che il telefonino mi cuocia mi frigga l'orecchio no chi ha mai toccato una patata bollente cos'è la prima reazione che fai la rimetti lino magari frughi nella cenere ed un tratto c'è ancora un puntino bollente togli la mano no serve una norma per proteggerci dal calore che inganno è questo ed è interessante che oggi dicono così che è tutto a perché c'è un brevetto swisscom adesso non so se riesco a farvelo vedere al volo dovrei ingrandirlo un po' non si vede un gran che mi vedere se riesco al volo posso ingrandire così sì allora chi è il detentore di questo brevetto un brevetto del 2003 e qui purtroppo va giusto a capo ma è la swisscom ag che ha fatto questo brevetto di cosa si tratta è un brevetto per risolvere un certo problema brevetto si intitola riduzione dell'elettrosmog in reti locali wireless cioè il wifi che abbiamo in casa produce elettrosmog questo brevetto per quanto io sappia mai introdotto mai utilizzato serve per ridurre l'elettrosmog in casa come cosa leggiamo in questo brevetto l'influenza dell'elettrosmog sul corpo umano è un problema noto come va avanti il rischio del danno alla salute attraverso l'elettrosmog è quindi stato compreso meglio come risultato di recenti approfonditi studi come va avanti quando per esempio la frase dopo quella evidenziata quando per esempio il corpo umano le cellule del sangue umano vengono irradiate con campi elettromagnetici è stato dimostrato un chiaro danno al materiale genetico e ci sono stati chiari indicatori scusate lo traduco così al volo chiari indicatori di aumentato rischio di cancro questo da dove arriva citano di qui lo studio dell'università di tel aviv qui ecco non approfondisco più di tanto però hanno un brevetto per un proprio prodotto mai commercializzato per ridurre questo problema danni al materiale genetico rischio aumentato di cancro confermato da studi che oggi negano non ci sono studi che provano che è nocivo questo brevetto si trova in internet non è un materiale segreto che noi siamo ci siamo infiltrati nei loro uffici a rubare o che abbiamo prodotto da soli è un brevetto che si trova online ognuno lo può vedere quindi cosa possiamo dire io direi bugiardi come siamo arrivati a questo enorme perché oggi è legale irradiare con una tecnologia che danneggia il materiale genetico e ha un aumentato rischio di cancro facciamo una breve lezione di storia per tornare indietro al alla formazione di questa norma introduzione dell'effetto termico lo chiamo così questa protezione dal surriscaldamento del nostro corpo icnirp o icnirp ditelo come volete io dico icnirp commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti è un ente internazionale internazionale quindi sopra le sopra agli stati sopra le nazioni per proteggere dalle radiazioni non ionizzanti ci chiederemo magari proteggere chi o cosa dalle radiazioni non ionizzanti beh in ogni caso nel 91 c'è stato uno studio del bundesamt für strahlung ufficio federale quello tedesco per le radiazioni tradotto letteralmente che cosa ha fatto questo studio ha dimostrato un influsso sull'emissione di calcio delle cellule cosa significa questo è il principio del cancro questo era un grosso problema per l'industria della telefonia mobile perché cosa avevano pronto avevano pronto il 2g oggi siamo al 5g avevano pronto il 2g da introdurre da portare da commercializzare e cosa ha fatto l'industria in risposta a questo studio ha detto vabbè facciamo una commissione internazionale in fondo è semplicemente una società privata dall'industria e che cosa hanno fatto hanno inventato questo principio termico era il 92 e così hanno permesso l'introduzione del 2g nel 96 questo era già pronto preso in germania in nuova zelanda il governo ha dato l'incarico all'università la lincoln university e lì il professor nail cherry ha esaminato questi valori limite tedeschi e li ha bocciati per la nuova zelanda che cosa ha detto ha detto ha fatto un rapporto di 200 pagine è trovabile in tedesco e in inglese e dice i valori limite tedeschi hanno gravi lacune hanno errori tendenziosità omissioni e falsificazioni intenzionali infrangerebbero la protezione sanitaria richiesta dal resource management act questa è una legge neozelandese che garantisce la protezione della popolazione non delle radiazioni come in germania della popolazione dunque è una cosa già nota da parecchio tempo che questi valori limite sono un fake interessante questa pubblicità che abbiamo fotografato chi si appoggia a questi valori limite io dico promulga fake news qua c'è un giornale che si fa pubblicità che è senza fake news alcuni dettagli sull'ICNIRP che cos'è l'ICNIRP? è una società privata è fondata dall'industria quindi chi mette in tasca i soldi ha in mano questo ente questa questa associazione l'associazione è chiusa un circolo chiuso sceglie da sola i propri membri quindi non c'è un un governo o un ente internazionale che dice adesso deve venire questo o quell'altro ufficialmente è indipendente dall'industria solo dal 2006 quindi gli anni prima dal 92 quando è stata fondata fino al 2006 ufficialmente era sponsorizzata era finanziata se ricordo bene dalla T-Mobile una società di telecomunicazioni tedesca quindi ricevevano i soldi da chi anche li intascava non ha nessuna istanza superiore di controllo ha la propria sede in modo molto smart e molto furbo presso il Bundesamtfürstrahlung a Monaco di Baviera fornisce questo è interessante che il titolo è un po' in trecci di questa parte l'ICNIR fornisce 4 di 6 membri per l'attuale progetto di ricerca sui campi elettromagnetici dell'OMS ditemi voi se è una cosa neutrale il risultato che ne verrà fuori fornisce altrettanto 4 di 12 membri per il comitato scientifico per nuovi rischi della salute della commissione europea oggi dicono ufficialmente sul loro sito che sono completamente neutrali chi ne viene a far parte deve essere da almeno x anni fuori da circoli di interessi però però neutrali non possono essere perché le norme che sono state introdotte prima non le hanno revisionate non è che c'è stato un pentimento che hanno detto oh cavoli adesso dobbiamo essere neutrali dobbiamo rivedere tutto quello che abbiamo fatto finora no rimane tutto così va avanti e loro hanno standardizzato questa loro norma basata sui fattori termici abbastanza per tutte le nazioni attraverso l'OMS la commissione europea e oltre alcuni personaggi di rilievo all'interno dell'ICNIRP il dottor Michael Rapacioli è un fisico australiano era membro fondatore primo presidente dell'associazione è stato lui l'architetto di questo principio termico in seguito è uno di quelli che è entrato nell'OMS per diversi anni si è poi scoperto che riceveva 140.000 euro all'anno dalla motorola in seguito è tornato nell'industria il professor Jürgen Bernhardt invece era presidente durante la legiferazione a fine anni 90 in più era direttore del Bundesamt für Strahlung e in più era presidente della Strahlenschutz commissione per la protezione delle radiazioni vanno protette le radiazioni piccola parentesi quindi essendo in questo circolo aveva la funzione di controllare se stesso e questa è una cosa molto smart ovviamente riducendo i valori limite si distrugge l'industria questo lo diceva lui allora oggi cosa ci dicono se dobbiamo abbassare i valori limite cosa succede? distruggiamo l'economia dicono oggi l'economia l'industria l'industria fa soldi e come dire distruggiamo l'economia io non faccio più soldi se abbassiamo i valori limite questo è un problema lo vedremo ancora dopo i valori limite diventano legge una signora allora ancora parecchio ignota lavorava sotto Helmut Kohl aiutò alla fine degli anni 90 a questa legiferazione lei sottoscrisse questa legge la permise insomma chissà perché il governo tedesco è tanto a favore del 5G magari trovate la risposta se vedete chi è questa persona conoscete già? lei l'ha permessa? è una persona sconosciuta ancora non lo so in ogni caso è stata la Merkel beh certo chi vorrebbe danneggiare la propria azienda chi vorrebbe che l'economia della propria azienda venga distrutta ovviamente nessuno se qualcuno ha un'azienda non so qui chi ha una propria azienda chi farebbe qualcosa per danneggiare gli introiti della propria azienda beh nessuno la confederazione svizzera tiene il 51% della Swisscom quindi ha un interesse diretto che gli affari vadano bene non possiamo distruggere l'economia non possiamo abbassare i valori limite non possiamo renderlo sicuro questa è una sentenza del tribunale federale svizzero che cosa ha detto i valori limite non vanno fissati secondo un punto di vista medico quindi non si tratta di salute ma secondo la portabilità economica e la fattibilità tecnica aiuta a far soldi è fattibile tecnicamente beh ok allora prego andiamo avanti no? questo è veramente una cosa interessante se pensiamo al principio di precauzione non è che ha detto prima Roberto la salute non conta si potrà dire certo è tutto smart la domanda è solo per chi è smart ovviamente chi intasca i soldi potrà essere chiamato smart o furbo no? io dico che questo va veramente a livello di scandalo non si tratta di informazione disinformazione ma tu che idea hai tu cosa pensi viene dalla loro bocca abbiamo visto prima il brevetto lo confessano lo confessavano oggi lo negano le sentenze parlano così uno scandalo c'è bisogno di attivarsi lo scopo di questa serata come detto prima è di non solo iniziare a riflettere ma di iniziare ad agire abbiamo visto il governo ha i suoi interessi quindi non possiamo aspettarci che cambierà qualcosa automaticamente che possiamo aspettare e dire beh si regolerà da solo il problema no c'è bisogno che noi la popolazione intervenga così sta succedendo in Svizzera ma sono sempre più le persone che si attivano e iniziano a fare qualcosa prima di tutto si può fare informazione e prevenzione e in questo ci impegniamo ancora per questo punto ho detto ho detto che sono conflitti di interessi che è una parola gentile non ho le prove però il sospetto che ci sia una grossa corruzione dietro è grosso penso che la parola giusta più che intrecci di interessi sia veramente corruzione qualcuno l'ha già detto alla conferenza che abbiamo fatto a fine giugno a Mendrisio veramente è ora di alzarsi e di fare qualcosa la confederazione ha ordinato ormai la digitalizzazione sembra quasi essere una condanna ormai